Gli ingressi delle domus, che erano le vecchie case, dove il tetto è molto più alto perché stava ad indicare lo status della persona, cioè faceva vedere tutti i beni che aveva la persona quindi ingresso grande in modo che chi passava dall'esterno poteva vedere quanto era ricco questo signore poi ci sono le varie stanze delle vecchie case, cioè qui un tempo ci vivevano questa qui molto probabilmente poteva essere la stanza degli schiavi, che solitamente sono più piccoline perché ogni signore aveva uno o più schiavi che faceva lavorare Imparo a suonare strumento giorno 2 Grazie a tutti Grazie a tutti